Grazie Presidente per la parola. Innanzitutto ci tengo a ringraziare a nome della Commissione Ambiente il Consigliere Sturni per questo importante lavoro e per questo importante obiettivo mirato a tutelare, a manutenere, a gestire al meglio il verde della città di Roma, appunto il verde urbano e non solo. Come sapete benissimo la tematica della gestione del verde a Roma negli ultimi anni è stata un po' al centro delle cronache tanto da aver trovato il servizio giardini svuotato, depoperato da tutte quelle forze che prima nel passato erano un po' il fiore all'occhiello, avevamo 1.500 dipendenti, avevamo chiaramente un organico molto forte e con gli anni si è cercato invece di esternalizzare e di svuotare un po' questo bacino di grandi competenze e di grandi conoscenze. Per arrivare appunto a una situazione di stallo, una situazione buia che chiaramente Roma non può avere, ricordiamo che come ha detto il consigliere Sturni è la città più verde d'Europa, ha 330.000 alberature, ha 44 milioni di metri quadrati di verde, insomma supera appunto anche città come Parigi, come Londra, ecco parliamo veramente di una grandissima capitale del verde. Noi ecco per questo motivo grazie al consigliere Sturni che ha individuato appunto come obiettivo quello di salvaguardare un aspetto fondamentale per questa città, sappiamo che ci vogliono 109 milioni di euro all'anno per gestire al meglio il verde di Roma, ecco appunto il bilancio partecipativo può essere una formula per individuare quelle risorse e per poter garantire una gestione ottimale appunto dell'ambiente legato alla biodiversità. Perciò ci esprimeremo in modo favorevole e cerchiamo chiaramente da qui di iniziare un percorso virtuoso dal basso per poter incentivare quelle risorse, per poter sostenere e aiutare appunto il verde romano. Ecco perciò un grazie ancora sentito al consigliere Sturni per aver avviato un progetto virtuoso, un progetto che mira a riqualificare appunto la città di Roma nell'aspetto più green e che mira soprattutto a cambiare rotta. Grazie Presidente. Grazie.